Abbiamo dei soggetti, dei bambini o comunque degli adolescenti che trovano sfogo nella rete perché sono da soli, dove nessuno li controlla e si sentono liberi di fare e dire quello che vogliono. Nelle scuole, a cominciare dalle scuole primarie, dalla prima elementare, bisognerebbe introdurre obbligatoriamente una disciplina di educazione ai social in assenza di una normativa scolastica che si occupa diffusamente del fenomeno, ma nell'autonomia dei dirigenti scolastici, una sensibilizzazione in che modo? Organizzando due giornate al mese con obbligo di frequenza, nelle quali si parla esattamente di questi nuovi temi. Un bambino bullizzato non riesce ad avere quella concentrazione, quella capacità di mantenere la competizione scolastica, quindi è un bambino che avrà sicuramente delle difficoltà. Quindi il rendimento che alcune volte diventa per gli insegnanti un fattore D e per i genitori come un impulso a farlo studiare di più. Invece quello è il primo segnale. È il primo segnale. Può essere il primo segnale. Il più delle volte è quello, un deficit dell'apprendimento. Si legge chiaramente che il fenomeno non verrà mai fuori attraverso uno sportello, perché così come la violenza perpetrata nei confronti delle donne, c'è sempre molta reticenza o ignoranza, virgolettato, perché non se ne leggono i chiari segnali, i chiari sintomi, o si va guardando altrove come la fascia sociale di appartenenza del bullo piuttosto che della vittima. La scuola è una sentinella sulla quale bisognerebbe puntare. Osservare e saper leggere i sintomi e ascoltare. C'è una relazione. C'è una relazione.